Noi siamo qui oggi per dire perché la commissione di garanzia allo sciopero ha aperto una procedura nei confronti dell'azienda SM perché l'azienda SM non ha rispettato le leggi in materia su diritto allo sciopero e che è l'unica azienda, per quello che ci risulta a noi, dell'igiene ambientale che non ha rispettato questo tipo, è l'unica azienda a cui è stata aperta questo tipo di procedura. Una procedura però insomma che alla fine non è che poi tocca tanto perché poi si vedrà in un secondo momento se ci saranno sanzioni o meno. Beh, se noi leggiamo ciò che ci è arrivato dalla commissione di garanzia e controllo dove ci dice che è mancato rispetto all'obbito e spedito la procedura di raffreddamento è mancato, quindi già loro hanno evidenziato se non l'avrebbero aperto perché c'è una commissione che si riunisce e valuta le carte prodotte. Lui nella valutazione delle carte prodotte che gli abbiamo fornito anche noi come organizzazioni sindacali di un gianto l'accaduto, hanno visto che l'azienda non ha rispettato la legge in materia per diritto allo sciopero. Ecco, però le due tranche delle somme verranno erogate, insomma lui vi ha un po' tranquillizzati con una nota. Innanzitutto relazioni industriali con il ministro di regalo non ce ne sono più, da parecchio tempo, non è da oggi. Cose che violano le norme contrattuali perché lui deve attenersi alle regole, le regole sono date dai contratti e dalle leggi, non dal padrone delle ferriere. Questo per essere inciso. Secondo, tutti gli operatori ecologici, tutte le aziende a livello nazionale hanno preso ciò che noi all'Aquila ancora non prendiamo. Questo deve essere chiaro per tutti. Questo è come sta gestendo l'azienda SM. Facciamoci capire, sono adeguamenti di stipendi? Sono adeguamenti di stipendi che è previsto dai contratti nazionali. Noi sono tre anni che abbiamo scaduto il contratto nazionale. Adesso hanno fatto questo tipo di rinuovo che è minimale, stiamo parlando di 10 euro e non stiamo parlando di qualche cosa. E queste 10 euro devono essere pagate. Come loro, il suo contratti sta scritto i nostri doveri e il nostro dovere è anche percepire lo stipendio come sta scritto le norme contrattuali. Siete già confrontati con l'amministratore Unico? L'amministratore è stato sanzionato proprio apposta per questo. Vabbè, ma voi sindacati ci avete parlato? Ci abbiamo provato a parlare, purtroppo lui è il padrone delle feriere, lo ripetisco l'ennesima volta, quindi lui si pensa là di essere il padre padrone di un'azienda. Non è così, lui è un amministratore di un'azienda, deve rispettare le leggi perché ricordiamoci che l'azienda SM è un'azienda pubblica al 100% di partecipazione del comune dell'Aquila, quindi anche di nostri cittadini perché noi paghiamo le tasse. E lui deve rispettare le leggi in materia, che cosa che fino ad oggi non vediamo che faccia perché se no questa nota non veniva aperta. E' così, ma a questo punto vi interessa più che la procedura porti a una sanzione o più che arrivi il pagamento in due parti di quello che vi spero? Allora, innanzitutto quello che lui ci dà decide lui quello che ci vuole dare, fermo restante che noi faremo le azioni, perché tanto se lui non ce le dà, noi faremo azioni legali di massa nei confronti dell'azienda e poi pagherà anche i nostri legali perché questo è quello che vedrà, perché i nostri diritti ce li faremo nelle sedi oppure e farcele dare. Quello che noi stiamo rimarcando è che lui ci siamo dovuti arrivare a una situazione del genere, quando potevamo farne a meno e quando potevamo mettersi a tavola e vedendo le problematiche dell'azienda poter risolvere il contentere. Finalmente dopo tanto tempo, diciamo che tutti i noti vengono al pettine, la mala gestione dell'ASM che noi diciamo da parecchio tempo è arrivata quasi al capofila. Con questa munizione che è stata fatta al nostro caro Tordera, evidentemente quello che dicevano i sindacati fino a poco tempo fa, che appunto questa ASM è stata sempre gestita da una persona sola, come ha voluto, senza tener conto dei sindacati e senza tener conto degli operai, evidentemente noi abbiamo avuto ragione e lui sicuramente ha sbagliato. Per quanto riguarda le ultime cose, ogni volta che facciamo una conferenza stampa come sindacato, il giorno dopo ci ritroviamo una lettera appesa sulla bacheca senza neanche firmarla, dove lui cerca di recuperare quello che diciamo noi il giorno prima. Noi facciamo questa conferenza stampa per dire che comunque l'ASM è in mancanza di qualcosa nei confronti degli operai e lui il giorno dopo mette questa letterina senza neanche firmarla per dire che comunque lui c'è, lui fa delle cose fatte bene, però non è così. Questa è una male gestione, questo credo che il sindaco lo debba prendere veramente in considerazione perché siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Noi sia come sindacati ma soprattutto come operai non ne possiamo più.